E' sabato sera e quattro amici, Flavia la birra, Washi funghetto, Mere la marioana e Betta la sigaretta si trovano in un pub. Cosa facciamo per divertirci stasera? Qualunque cosa scegliate, io rimango ovviamente la protagonista indiscussa della serata. Senti, non sei tu quella che portano fuori quando vogliono qualche distrazione. Ragazzi, calmiamoci, facciamo un tiro e ci verrà in mente qualcosa. Ma quando usciamo da casa che qua le pareti si stanno sciogliendo? Allora, quando? Eccolo, è arrivato l'esaltato. Andiamo a farci un gire in macchina che qui mi sto annoiando. Guida tu, che a me annoia troppo. Mentre stanno uscendo, Flavia barcolla e si regge su Betta, ma non si accorgono di lasciare Washi solo nel pub. Sono in macchina. Flavia guida. Betta è seduta davanti mentre Mere è sdraiata nei sedili posteriori. C'è fumo dentro la macchina e non si vede molto bene. Ma dove è Washi? Mere, tu l'hai visto? L'ho lasciato che le cava il muro. Nel frattempo Washi è uscito fuori a guardare le nuvole. Che buono lo zucchero filato! Si avvicina la macchina che investe Washi e questo muore. Betta e Flavia escono dalla macchina lasciando solo Mere. Tu guarda, abbiamo investito Washi. Arriva la polizia, che nonostante vede Mere, seduta nei sedili posteriori, l'arresta e le dà la colpa dell'incidente. Ti dichiaro in arresto. Ma io non stavo guidando. Ancora una volta l'abbiamo fatta tanto. Ancora una volta l'abbiamo fatta tanto. Grazie a tutti.